Se hai una laurea di primo livello, o anche di secondo, cosiddetta magistrale, ti aspettiamo qui in install perché c'è un'opportunità incredibile, un percorso formativo, un master in marketing and sales, che ci viene richiesto dalle aziende, che sta cercando persone che come te abbiano voglia di entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Mezza forse di studio, contribuita e pagata dall'azienda che partecipa al master e che ti selezionerà insieme a noi all'inizio, ti accompagnerà durante tutto il percorso e presso questa azienda farai sei mesi di stagio. Credo che un prodotto di questo tipo sia difficile da trovare nel resto del nostro paese, sono prodotti che hanno origine altrove. Abbiamo soltanto bisogno di tre caratteristiche, tanto voglia di fare, energie, tantissime energie. Seconda, la disponibilità a contribuire per metà, perché l'investimento deve essere reciproco. Noi crediamo in te, ma tu devi credere in noi. La terza, 10 trovari, install, quella fornita. Ti aspetto. Grazie. 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 Grazie.